Ci si può innanzitutto rivolgere direttamente al sito web che abbiamo per poter quantomeno essere indirizzati poi presso le strutture territoriali. Noi la gran parte, la sagrada maggioranza delle adesioni le abbiamo proprio con un contatto diviso, vengono direttamente da noi, firmano e soprattutto combinano una scheda tecnica dall'azienda con le superfici e con le produzioni che effettivamente fanno e con i quantitativi immediatamente vengono inseriti nel circuito.